faccio questo video perché da pochi giorni comunque ufficiale che Chiriches e Sarnicola se ne vanno alla Cremonese su Sarnicola non è niente da dire perché è sempre comunque girato in prestito di qua e di là comunque c'è stata l'occasione della Cremonese lui è andato e qua Sassuolo non sapeva molto chi è Sarnicola quindi comunque ci do un bocca al lupo però non posso dire nient'altro su Chiriches diciamoci la verità volevamo fortemente chi più chi meno noi tifosi di Sassuolo questa gestione di Chiriches perché è vero che comunque è stato con noi tre anni però è anche vero che ha giocato mi sembra di aver letto tipo 66 partita presenza come volete chiamatelo e due gol questo bisogna dirlo però diciamo che come difensore buone partite ne ha fatte veramente poche infatti sinceramente tutt'ora mi chiedo perché giocava Chiriches e non a Jan quindi le presenze per noi e per noi tifosi dovevano stare ancora di meno un po' in più come ho capito il Cremonese l'ha pagato 3 4 milioni che secondo me sono tantissimi per uno che almeno un errore anche abbastanza grossi li fa e comunque anche grazie a lui non solo per lui ma anche grazie a lui in questi tre anni non siamo andati in Europa quindi per me comunque già soltanto pagarlo più di 2 milioni per me è stata una falla più per questa sua e poi chi ti fa Cremonese lo capirà il motivo a meno che è questo qua è questa cosa ce lo auguro tantissimo migliore di testa perché il vero problema di di Kiriches è la testa secondo me ma lui è sempre stata la testa perché lui comunque è un buon difensore secondo me comunque certe volte stacca proprio il cervello e non e non si ricorda più dove sta e questo potrebbe essere un problema per per appunto la Cremonese che appunto ha l'obiettivo di salvarsi anzi comunque spero che la Cremonese si salvi però è anche vero che se per puro caso la Cremonese ha un attimino di intelligenza e intelligenza eccetera magari provarlo come centrocampista perché come difensore come ho detto a me sinceramente non ha mai fatti impazzire infatti ha fatto molti errori infatti forse un po' un po' mi dispiace perché comunque ora dovrò cambiare ora non potrò più bestembarlo dietro a Kiriches quindi questo mi mancherà vabbè a parte di scherzi però spero che fra quello step in più però è più mentale che dei piedi perché appunto con i piedi mi ricordo che ci sta a fare anche parecchio infatti comunque ha fatto due gol e uno maio dell'altro se mi ricordo bene quindi i piedi ce li ha comunque qualcosa che difensivamente parlando deve migliorare mentalmente secondo me è più una cosa mentale quindi secondo me se la Cremonese invece di mettere il difensore lo mette davanti alla difesa però centrocampista secondo me la potrebbe fare molto bene come difensore un po' meno secondo me anche per voi vedrete poche partite fatte bene di Kiriches infatti mi ricordo benissimo che l'inizio dell'anno scorso calcistica stava facendo bene infatti le prime 5-10 partite ne ho fatte anche abbastanza bene poi dopo c'è sempre stato comunque quasi quel staccamento di cervello che vi dicevo prima quindi buona questo sì ma fino a un certo punto quindi ora voi vedrete poi parliamo anche un attimo del sostituto di Kiriches perché è vero che noi abbiamo comprato zero difensori questo bisogna dirlo però è anche vero che comunque alla base ci ritornano praticamente tre difensori uno è Darlick che comunque l'anno scorso era in prestito appunto adesso a suolo allo Spezia e sembra un buon giocatore l'altro magari ve lo siete scordati ma noi abbiamo ancora Romagna che per ora per ora sta un attimino giocando con noi quindi anche là bisogna vedere se si ritorna per giocare oppure se si infortunia come ha sempre fatto però io sinceramente spero che ritorni e quindi per me è quello diciamo che dovrebbe essere una specie di nuovo acquisto questo bisogna ammetterlo che dopo due anni tre anni di infortunio o quello che sono è il nuovo acquisto e il terzo è Ryan Flamengo classe 2002 che fino all'anno scorso ha giocato nella nostra primavera ha segnato quei 16-17 gol da difensore centrale che non sono per niente pochi e che si parla anche bene della fase difensiva che ha lui quindi io un attimino lo vorrei vedere un attimino però anche là bisogna vedere cosa ha in mente lui eccetera intanto è il ritiro con il sassuolo però come ho capito dovrebbe andare in Olanda dove è nato lui però intanto è con noi e se fosse per me e per la maggior parte comunque dei tifosi anche qua molto facilmente lutterrebbe in prima squadra almeno così per un attimino vederlo come si comporta in Serie A perché comunque uno che si parla bene difensivamente parlando e fa tutti quei gol diciamo che non mi farebbe schifo quindi diciamo che le soluzioni per il dopo chi richesse secondo me ci sono tutte quindi ora bisogna vedere il sassuolo che cosa ha in mente di fare perché poi come ho capito Montecimento sarà andato via un altro difensore ma questo poi magari ne parliamo in un prossimo video detto questo mi sembra di aver detto tutto magari diciamo qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate della cessione di Chiriches di Sarnicola a titolo definitivo alla Cremonese comunque noi ci vediamo al prossimo video sempre o comunque forse sassuolo e ciao